Il terrorismo viene usato contro di noi, ma il vero terrorismo è questo, è questo che fa paura. Terrorizzare vuol dire quello, noi siamo da un'altra parte, noi continuiamo a dirlo, siamo resistenti. Noi diciamo che difendiamo la nostra terra e che la nostra terra la difenderemo a costo della nostra vita, la difenderemo a costo della nostra libertà e la difenderemo fino in fondo e alla fine vinceremo noi perché non possiamo perdere. Questa è una certezza, questa è la nostra forza, questo è quello che oggi hanno ribadito tutti quelli che sono qui in questa grande e bellissima manifestazione. Grazie a tutti!